Buongiorno e ben trovati, io sono Stefania Colucci, consulente immobiliare di Remax Stella Polare. Oggi siamo a San Paolo e vi presento un bellissimo Trivani. Entriamo direttamente in un comodo open space composto da zona living e cucina, proseguendo lungo il corridoio, cameretta, bagno con doccia e la camera matrimoniale. Tutte le stanze di questo delizioso Trivani hanno la porta finestra che si affaccia sul punto di forza di questo appartamento, un grande balcone terrazzato che come potete vedere è al momento oggetto di ristrutturazione. Spero vi sia piaciuto questo appartamento e se è così non esitate a contattarmi. A presto! Grazie!